Smart Garage, via Alfonso Balzico 45, nei pressi della sede Ausino a Cava di Tirreni. Ognuno quello che gli passa per la testa. Siamo liberi di fare quello che riteniamo di fare, ma nell'ambito delle norme di tutela e di rispetto per la vita e per l'esigenza della comunità. La campagna sta registrando una buona tenuta sul fronte epidemiologico. Tuttavia, l'unica soluzione per contrastare adeguatamente il Covid-19 resta la campagna vaccinale. Lo ha sottolineato nella consueta informativa del venerdì il governatore Vincenzo De Luca, che ha lanciato un ulteriore appello ai cittadini, ed in particolar modo a quelli più resti, a vaccinarsi. Quando si dice io sono libero, vediamo di capirci. Quando abbiamo avuto i reparti ingolfati di malati di Covid, quando non avevamo il vaccino, noi abbiamo tolto la libertà a tutta una serie di nostri concittadini che avevano malattie cardiache, malattie oncologiche, malattie neurologiche. Ci sono stati migliaia di nostri concittadini che non hanno potuto godere della libertà di cura, perché in alcuni casi si sono allungate la lista di attesa, si sono chiusi i reparti ordinari. Quindi vediamo di capirci. Se la tua presunta libertà significa togliere la libertà di cura da altre centinaia di migliaia di persone, la cosa è inaccettabile. Bene ha fatto Draghi a confermare che si va in direzione netta verso anche l'obbligo della vaccinazione, come giusto che sia. Si approssima intanto l'inizio del nuovo anno scolastico previsto in Campania il 15 settembre. De Luca, che ha firmato un chiarimento che dispone il Green Pass obbligatorio anche per il personale scolastico esterno, che vuole accedere agli istituti, ha fatto un punto della situazione. Daremo oggi un chiarimento anche per quanto riguarda persone non dipendenti dalla scuola che magari lavorano nelle nostre scuole. Sono obbligati tutti ad avere il Green Pass, quelli che stanno nelle scuole, anche se dipendenti di altre amministrazioni, anche se impegnati nelle menze, tutti con il Green Pass. In Campania i ragazzi residenti della fascia 12-19 anni sono 509.000, i residenti. I ragazzi che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, su 509.000, sono 304.000. Vi sono già 200.000 giovani che non hanno aderito alla campagna. E già questo è un problema serio. Io vi chiedo di darci una mano a completare la immunizzazione della popolazione studentesca. Se vogliamo stare tranquilli. Perché tutte le misure di contorno che possiamo prendere, il trasporto, moltiplichiamo le corse, lo faremo. Il distanziamento cercheranno di farlo i dirigenti scolastici. Ma parliamoci chiaro, qua l'unica misura di prevenzione vera e di tutela vera dei nostri figli è la vaccinazione. Mettiamocelo in testa. Mettiamocelo in testa.